salve a tutti buongiorno e grazie 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 per l'affetto che mi dimostrate e ho raggiunto sul canale youtube 2000 iscritti da qualche giorno e sinceramente come vi ho già scritto non pensavo di riuscire ad arrivare ad un traguardo simile anche perché registro veramente pochissimi video devo assolutamente cercare di farmi perdonare uno dei modi per farmi perdonare è organizzare questo contest che spero vi farà divertire e spero e avrete piacere a giocare insieme e vi uso subito quella che è la mia idea allora il contest si chiamerà love is all around e terminerà il giorno di san valentino il 14 di febbraio o meglio entro il 13 dovrete inviarmi una mail oppure un messaggio sul messaggio e dove appunto ci sarà questo questa foto crede la creazione che realizzerete e il 14 io sceglierò la creazione che rappresenterà maggiormente secondo me l'amore che voi avete nel creare e che ho anche io nel creare quindi questo amore che condividiamo allora la foto la creazione dovrà essere di un mio schema presente sul mio shop pezzi se non avete non avete ancora mai acquistato sul mio shop potrete acquistare per questa occasione contattandomi privatamente creerò un buono sconto appositamente per voi e potrete avere uno schema con il 50 per cento di sconto quindi se avete già uno schema che vi piace oppure avete già un qualche mio schema ma non vi sembra adatto per questo contesto o volete approfittare di questa occasione per chi parteciperà al contesto e solo per chi parteciperà creerò questo buono sconto del 50 per cento quindi mi contattate e vi darò il buono sconto personalizzato allora un'altra caratteristica o meglio l'unica caratteristica che dovrà avere la creazione oltre ad essere appunto il mio schema etsy dovrà contenere il colore rosso non dovrà essere magari solo dovrete essere voi a scegliere il rosso dove come quanto utilizzarlo potete farla tutta rossa utilizzare solo i rivoli rosso piuttosto che un solo tipo di perline come volete l'importante è che ci sia all'interno della creazione il colore rosso quindi una volta realizzata la foto se sulla foto riuscite anche a mettere il vostro nome sarà ancora meglio altrimenti nel momento in cui me la inviate lo lo aggiungerò io allora una volta appunto ricevute tutte le foto il entro il 13 a mezzanotte il 14 io invierò a tutte un attimo ginevra siamo un attimo a tutte coloro che avranno partecipato uno schema a scelta quindi tutte coloro che parteciperanno vinceranno uno schema che sceglieranno sul mio negozio etsy e la vincitrice ovviamente riceverà un pacco di materiale perlinoso quindi con tanto materiale che a noi piace tantissimo ovviamente potete anche direttamente quando inviate la mail con la foto quando inviate la mail o il messaggio sul messenger con la foto potete direttamente indicarmi quale sarà il vostro schema preferito che vorrete ricevere alla fine del contest quindi il 14 pubblicherò sul mio sulla mia pagina un album dedicato appunto a questo contest con tutte le foto di tutte coloro che avranno partecipato e ovviamente girerò un video un attimo ginevra un attimo ginevra ora capite perché io non giro mai video appunto vi dicevo girerò quindi un video per comunicarvi la vincitrice e appunto per mostrarvi anche nel video tutte le creazioni che avrete realizzato credo di avervi detto tutto ovviamente lo schema diciamo in regalo per tutte le partecipanti sarà dato solo a coloro che invieranno una foto valida quindi la foto dovrà avere semplicemente queste due caratteristiche essere un mio schema Etsy e avere il colore rosso all'interno della lavorazione detto questo spero che ci divertiremo insieme nella realizzazione per qualsiasi informazione potete contattarmi e spero di riuscire a girare altri due video che dovrei fare da un bel po' ma vediamo un attimo come come riesco nella giornata di oggi ad organizzarmi vi ringrazio di nuovo e buona giornata buone perline a tutti e al prossimo video grazie a tutti